Quando parliamo di computer fisso e computer portatile, ci riferiamo ad una serie di parti componenti che chiamiamo componenti o periferiche hardware, che significa solide, cioè che possiamo vedere e toccare. Uno fra i più importanti di questi componenti è l'unità centrale del computer, o case del computer, che è l'unità che ospita tutte le parti elettroniche che permettono al computer di funzionare ed eseguire le operazioni che gli chiediamo. Qui dentro troviamo cuore e cervello del computer. Poi abbiamo bisogno di uno schermo, o display, che ci permetta di vedere quello che facciamo a computer. Attenzione perché in sé lo schermo non ha alcuna capacità di elaborazione, serve soltanto per mostrarci quello che succede. Necessitiamo anche di tastiera e mouse, che sono gli strumenti che usiamo per inserire del testo e dare comandi al computer. Spesso poi utilizziamo delle casse per ascoltare i suoni che il computer riproduce, o in alternativa delle cuffie, e una webcam, una piccola telecamera che può essere dotata di microfono o meno, che possiamo utilizzare ad esempio per effettuare delle videochiamate a computer. Beh, tutti questi componenti hardware li ritroviamo anche nel computer portatile, solo che sono incorporati in un'unica struttura. Ritroviamo lo schermo, la tastiera, il mouse è sostituito da un dispositivo sensibile a tatto che si chiama trackpad e che permette di controllare il puntatore del mouse muovendo un dito sopra la sua superficie, casse e microfono sono anche integrate nella struttura e la webcam, quando è installata, si trova sulla parte alta del monitor. Infine, tutti i componenti elettronici che nel computer fisso troviamo all'interno dell'unità centrale del computer, nel computer portatile sono riarrangiati e posizionati all'interno della base. Inoltre, dal momento che si tratta di un dispositivo portatile come lo è un cellulare, ad esempio, il laptop è anche dotato di una batteria che può essere estraibile o integrata anch'essa all'interno della struttura e ovviamente di un caricabatteria. Oltre ai componenti hardware fin qui visti che danno origine alle configurazioni di computer più classiche, potremmo aver bisogno di altri dispositivi da collegare al nostro computer, fisso o portatile che sia. Ad esempio potremmo aver bisogno di una stampante per stampare dei documenti, o di uno scanner. Lo scanner è un dispositivo utilizzato per trasformare delle foto o qualsiasi tipo di documento cartaceo in formato digitale. Il documento viene inserito sotto il coperchio dello scanner e avviato il processo di scannerizzazione, lo stesso documento viene trasferito o meglio importato nel computer. Infine, per connetterci ad internet, abbiamo bisogno di un modem o di un router. Ok, abbiamo passato in rassegna alcuni dei più comuni dispositivi hardware a cui ci riferiamo quando parliamo di computer.